Musica Ciao a tutti, oggi prepariamo le canocchie alla busara scommetto che molti di voi non hanno mai sentito questo tipo di condimento è una ricetta semplicissima per fare il pesce va benissimo con mazzancolle, con gamberoni, con scampi con quello che volete, la ricetta è semplicissima Ingredienti per due persone 8 canocchie, mezza cipolla rossa di tropea, circa 10-12 pomodorini, del prezzemolo un bicchiere di vino bianco, un bicchierino di cognac, una puntina di piperoncino in polvere sale nero in fiocchi, olio extravergine di oliva e sale le canocchie io le trovo così buone che perdono il fatto che sono così antipatiche da pulire comunque tutto si fa in cucina e soprattutto con il pesce non è un problema certo queste sono un po' antipatiche perché con le forbici dobbiamo andare a tagliare tutto intorno al carapace perché ha tutte quelle parti appuntite e naturalmente se non vengono pulite bene sono poi molto antipatiche da mangiare poi con le forbici una volta ritagliato tutto il bordo andiamo ad infilarci sulla cosa dove c'è la polpa quella proprio molto saporita pulite tutte le canocchie andiamo a preparare gli altri ingredienti per la ricetta andiamo a tritare finemente una mezza cipolla rossa di tropea so che oramai vi ho quasi annoiato perché uso solo cipolle rosse di tropea ma una volta che scoprite la bontà di queste cipolle è difficile rinunciarci poi andiamo a tagliare sarà sufficiente a metà o in quattro se sono grandi dei pomodorini tritiamo il prezzemolo abbiamo già pronte pulite le nostre canocchie siamo pronti per andare ai fornelli ora i fornelli naturalmente una padellina antiaderente ci mettiamo un giro di olio extravergine e iniziamo a far appassire la cipolla di tropea che abbiamo tritato abbastanza finemente come si sarà ammorbidita la cipolla mettiamo una puntina, un cucchiaino di peperoncino in polvere mettiamo giù i pomodorini messi i pomodorini andiamo a mettere anche il prezzemolo tritato a questo punto come inizia ad asciugarsi il sughetto in padella andiamo a salare in modo che i pomodori rilascino l'acqua di vegetazione il sale che avete visto è il sale nero poi andiamo a sfumare con il bicchiere di vino bianco dopo il vino mettiamo anche un bicchierino di cognac e quindi questa salsina diventa bella anche alcolica molto molto profumata facciamo restringere tutto questo sughetto quindi andiamo un pochino avanti con la cottura parliamo di 2-3 minuti e a questo punto aggiungiamo le canocchie pulite vedete il sughetto sotto è iniziato a diventare un pochino scuro questo non è effetto della cottura ma è il sale che era nero e si è sciolto facciamo insaporire bene le canocchie in questo intingolo non vi dico che profumo in casa la semplicità di questa ricetta è estrema ma buonissima spero che questa ricetta vi sia piaciuta è semplice semplice come tutte quelle che piacciono a me ma le cose semplici sono sempre le migliori spero che abbiate passato delle buone feste arrivederci alla prossima ricetta ciao 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 ciao